La SOAP, opera spagnola, continua a regalare colpi di scena con le sue trame. Dalle anticipazioni si segnala un cambio totale di scenario, con Manuel che tornerà in guerra. Quest'ultimo sarà protagonista di un avvenimento che sorprenderà tutti i protagonisti della promessa. Nelle puntate precedenti, il figlio di Cruz si era ritrovato a dover fare i conti con le menzogne che gli erano state raccontate da Ximena. La donna gli aveva fatto credere di essere incinta del loro primo bambino, convincendolo così a non terminare il matrimonio. Un piano studiato nei minimi dettagli, che però verrà a galla con il racconto di Abel a Manuel. Ora quest'ultimo andrà in guerra e sarà protagonista di una situazione che catturerà l'attenzione di tutti. Scopriamo insieme le anticipazioni. Curro e Manuel, negli episodi della terza stagione, decideranno di andare in guerra e sul campo di battaglia si ritroveranno a vivere degli attimi di profonda tensione e grande paura. La vita in trincea sarà decisamente diversa da quella a palazzo e affronteranno molteplici pericoli. Uno dei momenti più complessi sarà la morte di Paco, un ragazzo che conosceranno in trincea e con il quale nascerà un rapporto di amicizia con Curro. Il giovane verrà colpito da un'esplosione e, nonostante l'assistenza immediata, per lui non ci sarà nulla da fare. Nel frattempo, Cruz si mostrerà in grande apprensione per le sorti di suo figlio Manuel, augurandosi che presto possa fare rientro a palazzo. Le notizie che arriveranno dal campo di battaglia non saranno rassicuranti e aumenteranno l'agitazione generale. Il colpo di scena si verifica quando Curro farà ritorno a casa, dopo un periodo d'assenza. Il fratello di Jana si presenterà all'interno del palazzo in grande forma e scatenerà l'emozione di tutti. Al suo fianco però non ci sarà Manuel, perché il figlio di Cruz non farà rientro dalla guerra. Al momento non si sa cosa sia successo. È riuscito a salvarsi oppure è stato colpito gravemente.